ecco come promesso sono riuscito a me stesso sono riuscito a realizzare a finire questo ulteriore dispositivo lo possiamo chiamare band select che in sostanza interagisce con gpio del raspberry p4 che chiaramente il cuore pulsante del port down e fa sì che andando a scegliere la banda lui automaticamente switch su una delle uscite di conseguenza in base a cosa abbiamo programmato support down la programmazione è molto semplice allora abbiamo lo stadio d'ingresso dove il negativo in comune ogni morsetto chiaramente corrisponde al a uno dei pin del raspberry dei pin precedentemente dichiarati sono quattro pin quindi potremo eventualmente anche scegliere di far commutare tre bande e magari anche attuare il ptt questo in base alle nostre esigenze c'è la prima schedina commerciale che comprende degli optoisolatori e delle resistenze per farle per far funzionare tutto come si deve e la schedina è stata sovrapposta da da me da me lo sovrapposta un ulteriore schedina libera come queste qui che avevo fatto vedere in precedenza che si prestano veramente a svariati utilizzi di conseguenza prelevando l'uscita che è un'uscita di livello dalla prima scheda questa uscita di livello viene convertita viene amplificata convertita perché è un'uscita negativa quindi io voglio l'uscita della scheda definitiva un segnale positivo quindi quando converto quando seleziono una banda o esegue il ptt sul sul morsetto di uscita dove anche riportato il negativo per ogni carico che posso collegare in questo caso ho collegato due ralea 24 volts la tensione in questo caso è fornita dall'alimentatore esterno io vado a alimentare la scheda a 24 volts questo è il terminale di ingresso collegamenti volanti per giusto per dimostrare il funzionamento segnale il led rosso segnala che il l'alimentazione 24 volte presente se io ovviamente spengo il led piano piano non essendoci carichi attivi si spegne quando accendo ovviamente va ad accendersi anche il led presenza 24 volt possiamo anche utilizzare questa scheda con tensioni di 12 volts 8 volts 5 volts quindi in realtà questa scheda dovrebbe arrivare utilizzando ibc 337 327 potrebbe arrivare tranquillamente anche a 30 volts ecco non l'ho mai provata a 48 volts avendo anche dei relè a 48 volts ma suppongo che non se la corrente assorbita è importante non c'è la faccia ecco ora andiamo al funzionamento che abbiamo già visto in precedenza sull'altra tipologia di scheda realizzata in questo momento è selezionata l'ultima uscita possiamo vedere lo stadio di uscita il led blu l'ultima uscita che corrisponde al transverter per i 13 cm se invece andiamo a commutare ecco vediamo se riesco a inquadrare tutto insieme per esempio sulla prima uscita che l'ho assegnata ai 6 metri lui automaticamente mi switcha in maniera immediata l'ultima la prima uscita quindi il primo led blu e di conseguenza si attiva questo relè con lo scoccettino sopra per fermare le viti idem se vado a selezionare la banda per esempio dei 70 cm io qua ho sistemato un preset di banda 70 cm 437,1 megahertz sta in questo caso immediatamente si seleziona il secondo relè infatti anche il secondo led blu viene attivato idem per i 23 cm idem per i 13 cm ma in questo caso ho deciso di utilizzare la stessa uscita e come abbiamo visto in precedenza anche per il trasverter 3 cm andiamo a selezionarci il pin di conseguenza voluto ora per rispondere degli amici la programmazione è molto semplice andiamo dal menu m3 ovvero il port down al di là delle memorie dei preset che ho già utilizzato per esempio qui sotto ci permette di abbinare una banda a un'uscita dall'attivazione di un pin specifico quindi di un gpio del raspy 4 andiamo in menu m3 andiamo a selezionare set band detail e qui per esempio abbiamo varie tipologie di bande ci sono praticamente tutte 71 megahertz non sto a leggerle ecco andiamo per esempio a lavorare sulla banda dei 6 metri ok posso assegnare un titolo e già qui io evinco che la banda dei 6 metri viene abbinata al pin gpio codice 4 questo è il codice decimale codice decimale che corrisponde chiaramente al codice binario 0001 quindi di conseguenza noi andiamo a dire ogni volta che lavori sulla banda dei 6 metri al di là della frequenza impostata dalla memoria o manualmente attivami l'uscita alta e livello alto sul pin 4 ok andiamo avanti possiamo impostare varie altri parametri di attenuazione che però non stiamo utilizzando perché necessita il ben decoder della btc abbiamo altri altri livelli per in questo caso l'express questo è il punto l'impostazione che dobbiamo variare se vogliamo invece di utilizzare il pin gpio numero numero 4 possiamo utilizzare il gpio un altro gpio diverso e di conseguenza lo andiamo a segnare qui quindi andando avanti abbiamo altri set che non ci interessano il lime eccetera 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 non competono comunque ciò che stiamo facendo perfetto abbiamo così variato eventualmente un qualsiasi set per esempio per il transverter e 3 centimetri ho utilizzato il gpio codice 2 codice decimale 2 che avrà corrispondenza al codice binario ora come ho spiegato anche a voce il band decoder della btc contempla un'infinita possibilità di programmazioni e di bande che a noi onestamente a meno a me non serviranno mai di conseguenza se vogliamo semplificare parecchio le cose e realizzare un commutatore di banda automatico con questa schedina che è veramente molto molto piccola e compatta che bisogna chiaramente assemblare da sé dobbiamo sfruttare soltanto alcuni pin per una una logica molto precisa i pin che io come ho fatto vedere in precedenza ho sfruttato sono i pin diciamo 7 22 32 35 che corrispondono ad una programmazione decimale quindi il numeretto che abbiamo visto prima per esempio per il pin 7 il numero decimale è il 4 quello che andremo a mettere nel menu m3 del portale questo pin 4 scusate il pin 7 che corrisponde al decimale 4 ha un codice binario 100 il pin 22 più abbinato la banda dei 70 centimetri a un codice decimale 8 binario 0100 le bande dei 23 di 13 cm abbinati al pin 32 questo è quindi il gi po 32 che corrisponde un decimale 1 dal menu m3 del portale portale è un decimale 1 è un binario 0010 conseguenza anche il transverte 3 cm lo comodo mediante il pin 35 e il decimale come abbiamo visto nel menu m32 un'ulteriore possibilità che abbiamo che possiamo sfruttare per attivare il ptt e utilizzare come abbiamo accennato prima il pin 40 gpio pin numero 40 del raspberry che permette di attivare un'uscita quindi un livello alto ogni volta che andiamo in trasmissione per fare una prova abbiamo ho collegato questo piccolo pannello è una b quad all'uscita rf frontale e premetto che abbiamo anche la possibilità di sfruttare i gpio del pluto perché anche il pluto ha dei gpio e se ovviamente li utilizziamo nel modo giusto quindi consideriamo sempre che sono livelli di livelli logici non segnali di potenza possiamo utilizzare due segnali di ptt la differenza qual è che il segnale di ptt del raspberry è istantaneo quindi va in trasmissione il ptt viene passa a livello alto va in ricezione il ptt va subito a livello basso mentre il ptt che possiamo prelevare dal gpio del pluto e non so se si vede in questo caso utilizzato un connettore a vaschetta per riuscire a portare il riuscita logica già accoppiata con un foto accoppiatore amplificata da un bc 237 sul sull'uscita di un relè il la differenza che il ptt i tempi di intervento sono diversi ovvero va a stato logico alto immediatamente ma ritarda qualche secondo per passare allo stato logico basso quindi se per esempio abbiniamo il relè di commutazione rx tx al gpio del ptt del pluto immediatamente lui passa dalla ricezione alla trasmissione ma ritarda qualche secondo per passare dalla trasmissione alla ricezione questo può esserci di aiuto evitando di dover mettere un sequencer affinché ci assicuriamo che la trasmissione sia completa ci assicuriamo che il lo stadio finale abbia terminato di lavorare e di conseguenza possiamo passare in rx vediamo subito andiamo a selezionare per esempio la banda dei 23 cm qui è impostato una frequenza di 100 di 1298 megahertz a un mega symbol rate vediamo se ecco riesco a mettere a fuoco perfetto questo è un pannellino per i 23 centimetri andiamo subito in trasmissione o selezionato un livello di potenza meno 50 db andiamo in trasmissione e osserviamo sia il led ecco serviamo sia il led sul frontale che è da abbinare al relè di commutazione rx tx sia questo led l'ultimo che ho sacrificato al commutatore di banda per far sì che possa lavorare solo da ptt quindi la quarta uscita ora è abbinata al pin 40 non più al pin 35 del raspberry che mi faceva la selezione del transponder per i 3 centimetri perfetto quindi come ora vi ho anticipato andiamo a vedere che appena rilasciamo la trasmissione il led sul terminale del raspberry va subito a spegnersi mentre questo del gpo del pruto ritarda qualche secondo spero di essere stato chiaro volevo fare una guida ma purtroppo si fa prima a operare in questo modo con un video come sempre se avete domande o ulteriori info anche riguardo la schedina di commutazione di banda con foto accoppiatori e stadi di potenza non esitate a chiedere a me oppure a fare domanda sul gruppo ciao a tutti india zulu 7 pdx ciao a tutti ciao a tutti